Articolo di Piero Giunta. Riflettendo a bocce ferme e ragionando serenamente come abbiamo fatto ieri per la Virtus Ispica, oggi parliamo dell'altra compagine ispicese che milita nel campionato di Serie B di Calcio 5, e cioè l'Arcobaleno. Questo è il secondo anno che la squadra allenata dal duo Mittelman Lorefice affronta il campionato di Serie B di Calcio 5. L'anno scorso la matricola ispicese è stata la rivelazione del campionato, sfiorando i play-off. Quest'anno, almeno per quello che abbiamo potuto vedere nel girone di andata, è mancata la continuità del gioco e dei risultati. Per onestà, c'è da dire che questa prima fase del campionato, l'Arcobaleno ha dovuto affrontare le varie gare sempre in formazione rimaneggiata o d'emergenza. Diciamo, senza essere smentiti, che la dea bendata non è stata favorevole alla compagine della presidente Angelo Galifi. Nel 2020, che coincide con l'inizio del girone di ritorno, le cose dovrebbero cambiare in meglio. Infatti, a difendere i pali ci sarà il giovane portiere brasiliano, Cauè Nazario, e il recupero dei giocatori chiave infortunati dovrebbero dare quella continuità di gioco e di risultati che, come dicevamo prima, è mancata nel girone di andata. L'Arcobaleno ha chiuso il 2019 vincendo per 6-0 e qualificandosi per il prossimo turno di Coppa Italia di Serie B, che giocherà contro la Pronis sabato prossimo in trasferta. Alla ripresa del campionato, sabato 18 gennaio, l'Arcobaleno disputerà la prima gara del girone di ritorno, affrontando in casa l'ultima del campionato, l'Agri Plus Masca Lucia.